ma non c'è nessuno Non guadagni due centimetri per girare. Eh? Allora! A zero, bravo. Tu provi e prendi così. E vedi se non guadagni due centimetri per girare. Per girare giù? Bravo, e ci provi. Tu hai sapere che è sacro. Sì. Stai guardando prima del cucuzzolo che guadagni già un bel po'. Vuol dire che giù quando non guadagni. Sì. Allora, giri. Se sei arrivato... 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 Ci provavo. Com'è andata? Mi rimasto a piedi? No. C'è la piccola? C'è? Sì, è lì. Occio! Ho fatto un po' di retro. Un po' di retro. Un po' di retro. Un po' di retro. Un po' di retro, un po' di retro. Un po' di retro è neat. Un po' di retro. Un po' di retro. Un po' di retro è stato un po' di retro. Sì. Invece a dyla arrivi più dritto. ma male che spostare se non era così scivoloso lì in discesa però come pensi va avanti è bella bella è guidabile via si anche la stai attento che vai lungo vai giù la stai attento che va avanti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pirla, 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 pirla. Ma sono piena da pirla. Buono, dai.